Come ha detto il mister c'ha ragione, secondo me nei primi minuti del secondo tempo forse non siamo partiti con quella attenzione giusta, però secondo me in campo ci eravamo rimessi a posto perché stavamo giocando, stavamo comunque schiacciando, lo buttavano su questi palloni, poi l'episodio purtroppo ci ha condizionato, ma lì è emersa un po' la forza, la concentrazione di parte tutta quanta la squadra perché fuori è stato sfortunato ma noi non abbiamo fatto niente per aiutarlo, per recuperare e rimediare alla sua distrazione e quindi la colpa è tutta quanta la squadra e poi dopo non abbiamo avuto la forza di rimetterci lì e di provare a creare difficoltà all'Atalanta che invece ha preso entusiasmo, non facendo tanto però lottando su tutti i palloni, sacrificandosi, correndo, avendo quella voglia dentro di raggiungere un sogno che li fa andare tanto, noi forse quest'anno non siamo riusciti ad averlo con continuità.